La strada è ancora lunga ma l'importante era partire bene e l'amatori Pescara lo ha fatto, 81 a 77, battuto Nardò in gara 1 di questa semifinale play-off. Coach Stefano Raiola, una partita molto bella, secondo noi, sia dal punto di vista tecnico che soprattutto atletico ed emozionante. Chiaramente però, esatto, non per le coronarie di tutti, anche del grande pubblico che è stato qui al Pala Elettra. Alla fine avete avuto ragione voi, anche se Nardò vi ha tenuto testa alla grande, no? Sì, noi siamo partiti molto bene, siamo andati avanti anche con una doppia cifra di vantaggio. Poi, solito, qualche piccola disattenzione ci siamo fatti recuperare e poi loro sono stati molto bravi nel terzo quarto a ripartire forte. C'è stato un parziale di 11 a 0. Noi, nonostante il time out che comunque abbiamo chiamato così subito, quindi poi lì naturalmente si fa dura perché loro hanno vinto la serie con Caserta e quindi hanno anche avuto una partita simile, quindi magari avevano la consapevolezza di come poter vincere. Noi in casa sicuramente avevamo naturalmente l'obbligo di vincere, la pressione, ma i ragazzi sono stati bravi a rimanere concentrati, a continuare a difendere per le cose che avevamo preparato, sono stati bravi a trovare soluzioni in attacco. Per fortuna in una partita comunque punto a punto perché siamo giocati fino all'ultimo secondo siamo riusciti a prevalere. E' piaciuta molto proprio la reazione nel terzo quarto dopo quel break davvero formidabile da parte della formazione ospite di 11 a 0. Piano piano siete riusciti comunque a dettare voi un po' i ritmi della partita. Loro naturalmente quando fanno canestro a tre punti, hanno giocatori come Zampolli, Drigo che fanno quei canessi a tre punti, naturalmente ti mettono in difficoltà. Noi poi siamo stati bravi ad andare sotto, abbiamo preso qualche tiro libero che al primo tempo invece ne avevamo presi troppo pochi, abbiamo combattuto su ogni pallone. E' logico che abbiamo concesso due falli sul tiro da tre punti, un paio di falli del canestro, queste cose qui ne offre, ne possiamo concedere perché dopo insomma diventa dura, diventa più complicato, porta a casa i due punti, c'è i due punti, la prima vittoria di una serie che era fondamentale, ma è solo la prima e tra meno di 48 ore si rigioca, quindi attentissimi bisogna stare. Ecco appunto martedì di nuovo qui al Paleletra, gara 2 ore 21, c'è stato un bel pubblico questa sera, però ci vuole ancora più tifo magari. Ma guarda, il tifo c'è stato, io spero che comunque anche martedì ci possa essere, anche se è di sera alle 9, il giorno dopo magari si va a scuola, però oggi c'erano tantissimi ragazzi e penso che sia una cosa bellissima avvicinare tanti ragazzi che magari praticano questo sport, a fargli vedere delle partite di questo livello così emozionanti in cui c'è molto molto agonismo in campo perché c'è stato tantissimo agonismo, nessuno si è tirato indietro, due squadre secondo me molto competitive, quindi niente, secondo me è un bello spettacolo, il pubblico non può mancare.